Spero che dormano male come noi Tito, una normalità Ma succede spesso? No, è perché non c'erano le ragazze Allora hanno cercato di fare come si poteva Ci siamo un po' aiutati A che ora? Oh, Gerry, mezzanotte e un quarto Mi ha dato l'affrontamento Io non so se c'è tre C'è da darci per buttarmi di più Oh, cinque anni fa non facevi Oh, cinque anni fa Paolo non ti facevi seminate Martina, Martina Ma se vuoi in un albergo di questo genere Lui è che va a pucciare il pane Vogliamo questa, non si porti via tasta Ah, le frisone diceva Donna, nana, tutta nana Ma io non posso tutta nana Ma io non posso tutta nana No, se stai a parlare, sto vicino Secondo me, donna nana Silenzio totale Ti faccio... No, beh, mi piace Tutta tana No, io non lo so, non lo so Non lo so, non lo so E di conseguenza avendo viaggi in America Sono molto contento Se era per me era meglio Beh, anche per tutti noi BASTARDO DEL CONTE BASTARDO Dunque aspetta, devo dire una cosa Qui lo dico e qui lo confermo Se domani sera l'ammarezza è con noi, io finiamo l'azzo Oh, scuota me Oh, esagerato Ti ho dato l'azzo che la famiglia ha vinto tre settimane al lavoro Mi dispiace Ho speso il suo The Warriors No, ho speso il loro dei frodi No, ho speso The Warriors Chi vince? Cacculo scava la merda Per noi, per noi, per noi si vince Dove vai? Se mi fratteste dai culo è un bello scherzo Veramente, oh Veramente Se invece non mi vedete in giro Ragazzi, mi sembra impossibile No, quest'anno è giocata alla grande Grazie Grazie Perché a parte c'è un sacco di gente Invece con i simmen E' lo buono, ho già fatto mettere i fresco Tu e' steso i due bottini Ciao famiglia Sono Robertone, pezzatore Famiglia Oh, ciao, 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 ciao Come? 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 Io so che stai stasera C'è un sacco di gente Se è cristiano, se è partizzato Tu devi fare una bella confessione Stavano E anche la famiglia E anche la famiglia E' un po' le immagini Adesso E' un po' le immagini E' un po' le immagini Tutti sono le immagini E' un po' le immagini E allora, ciao a tutti, mi chiamo Giorgio, numero 45, voglio dire una cosa, faccio chiedere Ho chiamato Wimbledon per te, e voglio dire una cosa ragazzi, mi preoccupatevi, che questa sera è venuta qua per l'occasione, per, ha venuto un po' Volevo, chi è che offre domani? Offre monetti, monetti, offre noi bravo monetti, offre monetti, offre monetti, offre monetti, offre monetti, offre noi bravo monetti Buonasera, forcelloni della notte, benvenuti all'appuntamento con la Merlin B Passiamo a presentare le nostre fantastiche cassette Oggi vi ho offerto speciale, una cassetta 70 mila Due cassette 180 mila, e cinque cassetti Ho voglia di mangiare questa banana, perché non ne posso più, il desiderio mi sta salendo E' fantastico Lui è il mio sozzo Lei chi è quella bellissima donna? Elisa, la mia metà Piacere Antonio E' il mio sozzo di macchina fotografica Fotografo Un microfono Dale gare Big microphone E' il mio sozzo di macchina fotografica Grazie a tutti 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 Grazie a tutti